ciao a tutti è sabato mattina 15 gennaio e sono pronto per la mia prima gara una gara facile parigi the city of love 11 65 chilometri 34 metri di dislivello un giro nella città vediamo come come sarà manca un minuto la partenza fuori la giornata molto bella infatti più tardi di sicuro pusherò con bici a fare un giretto in collina 5 4 3 2 1 partiti vediamo di raggi dentro iniziamo in leggera discesa siamo in tre tutti vicini verso la tour eiffel ecco la fantastica tour eiffel e via sto viaggiando a 40 chilometri all'ora niente male sono in scia con l'avversario vediamo se riesco a recuperare un po di gente che ci guarda dai 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 80 rpm come diceva fabrizio e adesso sigla ciao a tutti giornata fantastica 15 gradi pianura 15 gradi pianura qua ce ne sono 12 ma se ne sono 15 mi sta benissimo mi faccio un giretto tranquillo senza farmi sudare senza forzarmi troppo tanto la scambata l'ho già fatta stamattina con la sigletta e quindi ci vediamo nel bosco tanto lì ed eccovi qua il mio solito posto il mio piccolo parco ho fatto una piccola discesa gongole gongole via 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 Grazie a tutti. Bellissimo panorama, andiamo a vedere da sopra il Castellar com'è, hanno poi messo una santa donna, una santa donna, ok pronti per Castellar, gogolè! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.